Vittoria doveva essere, vittoria è stata, un successo quello conquistato ieri a Derbusco, in provincia di Brescia, che per il CF Alto Adige vale la matematica promozione del massimo campionato con una giornata di anticipo. Un ritorno nell'elite del calcio femminile che forse all'inizio della stagione era considerato un obiettivo un po' troppo ambizioso, poi strada facendo, Tonelli e Soce hanno capito che si trattava di un traguardo alla portata del gruppo. Un gruppo forte, serio e coeso che ieri si è presentato sul campo della Franciacorta, quart'ultima forza del girone, deciso a conquistare la vittoria che appunto sarebbe valsa all'accesso alla Serie A. L'avvio di partita è stato caratterizzato da una certa qual tensione, la classica paura di vincere, che non ha consentito all'undici, guidato in panchina da Antonio Alberti, di esprimersi al meglio. Le padrone di casa hanno anche avuto a disposizione una punizione a due in aria sprecata prima di subire la controoffensiva delle altoatesine, che hanno dapprima sfiorato il vantaggio, conquistandolo poi al ventiseiesimo con un tiro dalla grande distanza firmato da Alessandra Tonelli alla sua centesima marcatura con la maglia biancorossa. Cinque minuti dopo dalla Giacomo ha siglato il raddoppio. Infine al quarantesimo Brunello ha portato a tre le reti dell'Alto Adige, consentendo alle sue compagne di andare negli spogliatoi con un rassicurante vantaggio. Vantaggio poi gestito nella seconda frazione, anzi arricchito dalla quarta rete firmata da Pasqualini. Di lì in poi le due squadre si sono rilassate in attesa del triplice fischio finale preceduto da un'ultima emozione. Al novantesimo il rigore concesso al Franciacorta per la rete della bandiera. Infine la conclusione della partita e l'inizio della grande festa. Sinceramente era l'unico anno che pochissime si aspettavano di vincere ma comunque già il fatto che abbiamo vinto gli scontri diretti o comunque in parte tante fortune che gli altri anni c'erano sempre sfortune e questi erano come piccoli segnali che ci hanno fatto credere ancora di più in questo obiettivo. Alla fine è stato merito di tutta la squadra e è stata una crescita continua di più di un anno, di quattro anni quindi anche meritato e siamo contentissime.